Quante volte al giorno sentiamo parlare di innovazione, nuove tecnologie e futuro? Tutto deve essere smart, veloce, performante. E se stessimo perdendo di vista il vero obiettivo? Next to me è il podcast di Mitsubishi Electric filiale italiana, condotto da Pepe Moder, che parla degli impatti positivi dell'innovazione sulla vita di persone, comunità e imprese. Storie di imprese e di persone che fanno innovazione intorno a un fulcro comune, l'essere umano. Cerca Next to me sulla tua app preferita. Sono un alligatore. Sono un mamma-papà venuto per te. Sono l'invasore spaziale. Sarò una puttana del rock and roll per te. Tieni chiusa quella bocca. Stai urlando come se ti penetrassero e io mi sto dannando il cervello per trovare le parole. Tieni la tua telecamera puntata su di me, tesoro. Puntami la tua pistola laser alla testa. Prendi la tua faccia spaziale contro la mia, amore. Vai fuori di testa. È un sogno ad occhi aperti. Nell'era lunare. Non fingere dolcezza. Offriti a me completamente. La chiesa dell'uomo, amore. È un posto così sacro in cui stare. Fammi bevi. Fammi sapere che ti importa davvero. Fammi impazzire di piacere.